Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo tappa video del sabato. Oggi parleremo dei nuovi campioni legati alla fusione in realtà, perché ci sono diversi campioni, alcuni di questi sono terribilmente forti, legati alla nuova patch, ma di questi parleremo lunedì, oggi invece affronteremo gli epici della fusione in particolare e magari un paio di occhiate ai rari della fusione, sebbene non ci sia niente di interessante. Allora, Sybel è una fusione in realtà di cui ci dimenticheremo molto molto presto, credo. Il leggendario non è niente di che, le opinioni su di lei sono estremamente discordanti in rete e vanno dall'apatia più totale al prendetela perché forse un giorno diventerà utile. Allora, io ho già fatto questo discorso sul canale, ok? Di fondere campioni che attualmente sulla carta non sono molto forti perché un giorno potrebbero essere baffati. È un discorso valido, mi ricordo di averlo fatto per Pixnil, campione, estremamente fragile, estremamente debole, fragile intendo proprio come qualità, non fa niente di utile, non vi dà alcuna garanzia, non vi porta nessun beneficio e giusto per aggiungere un po' di bestemmia e tutto questo, vi richiede anche un disastro di tomi assurdi senza alcun senso. Però, perché Pixnil poteva essere fusa? Perché poteva valere la pena diffondere Pixnil? Perché è il classico campione a cui manca quel tanto così per diventare buono, il potenziale ce l'ha. Però, per come sono strutturate le sue destrezze, al momento è inutile, questo significa che è facilmente baffabile. Se notate, la Plarium non va quasi mai a stravolgere un campione, va semplicemente a limare, a togliere quegli elementi che fanno effettivamente schifo per rinforzarli. È successo con Candrafono ed è successo anche con un sacco di altri campioni in passato. E Pixnil è un buon materiale per fare buff. Mentre Saibel è veramente molto strano, un campione un po' fuori dal meta di Raid attualmente, in tutti i contesti. Quindi è un campione che se lo vuoi buffare per essere utilizzato ora, la dovresti riscrivere. Forse con i nuovi contenuti della nuova rotazione della torre da qualche parte ci potrebbe stare, ma sono tutti concordi nel dire che ora come ora non serve. Quindi il mio consiglio per voi è, avete le risorse, potete permettervi di fondere questo campione senza spendere o comunque senza svenarvi. Rispondetelo, lo lasciate in cantina e se poi verrà buffata e diventerà un campione utile, l'avrete insomma. Altrimenti lasciate stare. Lasciate stare, toglietevi un peso, approfittate di questo periodo, partecipate agli eventi, ai tornei, insomma, per accumulare risorse. Perché comunque sono tutti i modi per trasformare energia in cose buone, in pozioni, schegge, tomi, tutto quello che potete vincere, insomma, partecipando a tornei ed eventi. O comunque potreste decidere di mettere le mani su alcuni degli epici che sono a disposizione. Allora, andando con ordine, mi sono segnato prima di tutto Magnar. Stiamo parlando di un epico, appunto, degli demoniaci, dello spirito, campione spirituale, sono abbastanza singolari in genere. È un campione forte, di tipo HP, che fa danni basati sugli HP. I suoi moltiplicatori sono tutti notevoli, perché ha un 23% dei suoi HP massimi sulla skill primaria, che tra l'altro può andare a ridurre la difesa. È vero a target cingolo, ma comunque con una buona percentuale che diventa 100%. Se il target è bruciato, in questa fazione, avere qualcuno che riduce la difesa è buono. C'è già Gorlos che lo fa, per carità, però non tutti ce l'hanno. Io non ce l'ho, per esempio, farebbe molto molto comodo. E anche contro il boss finale, potergli ridurre la difesa è sicuramente valido. Quindi anche soltanto per questo è buono. Il moltiplicatore, come dicevamo, ha il 23% dei suoi HP massimi. Non è male, è molto vicino a quello di Vabbo Natale, per intenderci. Quello è ad area, per carità, però comunque fa danni. La sua seconda skin, invece, attacca tutti i nemici e piazzerà un colpo extra sui nemici senza debuff brucia HP. Quindi, se volete fargli fare soltanto danni, lo lasciate senza nessuno che mette brucia. Lui non mette brucia, quindi non è un problema. Se volete sfruttare il colpo extra, semplicemente non inserite nel team qualcuno che brucia. Se invece volete sfruttare il suo stordimento, allora lo inserite insieme a qualcun altro che brucia. Nella sua fazione c'è Eakoth, è un campione che potete ottenere gratuitamente attraverso la torre sventura. Il moltiplicatore di questa è 0,22, quindi il 22%. Non è male, non è male ancora una volta, è comunque un buon danno, visto che è ad area. Mentre con la terza skill attaccherà un nemico, applicherà un effetto spargi debuff, prendendo due debuff a casa dall'obiettivo e piazzandoli su tutti i nemici sotto un debuff brucia HP. Inoltre aumenterà di un turno la durata di tutti i debuff brucia HP su tutti gli avversari. Ovviamente non può spalmare i debuff di controllo, quindi se speravate, che ne so, di stordire un regnetto e poi con questa skill colpire quel regnetto e stordire di conseguenza tutti gli altri, scordatevelo, perché non è così che funziona. Ad ogni modo, tutto questo è legato alla precedente presenza di un debuff brucia HP, che in genere è la cosa che si vuole spargere, quindi non lo so quanto possa essere utile questa destrezza qui, però comunque c'è e va bene. Questa destrezza ha un 0,37, cioè un 37% dei massimi HP di Magnar. Se si fa con un buon HP e un buon danno, secondo me, potrebbe produrre un risultato davvero, davvero interessante. È un campione da mettere in coppia con Akoth, secondo me, o con Mordecai, se lo avete già, insomma, perché andrà a stordire. È vero che attacca tutti i nemici per farlo contro il ragno 25, che è blu, potrebbe fare qualche colpo debole, ma non importa. Vale la pena di utilizzarlo, perché con la sua passiva andrà a curarsi ogni qualvolta, subisca danni da un avversario sotto brucia HP, ok? Quindi se i regnetti mirano lui e lo mireranno perché è della finità sbagliata, allora andrà anche a curarsi un pochettino. Non è tanto, ma è pur sempre qualcosa. Se è anche coperto da uno scudo, potrebbe, insomma, recuperare HP perduti. Non è male, non è male. La sua aura è attiva solo in torresventura, però più 30% difesa è parecchio e le sue statistiche sono tutte valide, quindi è un buon campione. Per lui potreste decidere di fare qualche evento, insomma, anche soltanto per prendere i rari necessari e fonderlo. Potrebbe essere una buona idea. Con Elia, poi, è un campione epico sempre. Ops, non qui. Scusate, dei nani. È inquietante. Inquietante, sembra davvero una bambola pericolosissima. Comunque, vabbè. È un campione di tipo assistenza epico. Da non sottovalutare, secondo me, perché con la sua skill primaria avrà un 50% di andare ad aumentare di due turni i tempi di ricarica di una delle destrezze a casa dell'obiettivo. Questa è una cosa che può essere risolutiva per voi contro il Drago Eterno. Se avete problemi ad affrontare quel particolare boss che è vulnerabile all'imposizione dei tempi di ricarica, con Elia potrebbe fare a caso vostro. È solo un 50%, è vero, ma lo fa con la sua skill primaria. Se voi spammate la sua skill primaria a ripetizione, prima o poi entreranno questi due turni di tempi di ricarica, ok? Quindi già questo è ottimo, ma non finisce qui. Con la seconda skill, infatti, avrà un 80% che diventa 100% con i domi ogni tre turni di andare a piazzare un debuff sonno su tutti i nemici per un turno. Lo piazza senza colpire l'avversario, di conseguenza, non facendo colpi deboli, se lo mette oppure no, dipende solo ed esclusivamente dalla precisione che le date. È molto interessante questa destrezza. E non potete capirne la portata se non avete mai utilizzato Kaimar in arena. Kaimar è devastante. È vero, non solo per questa, ma anche per tutta una serie di altri motivi. Ma già il fatto che mette a dormire tutti quanti è tanta roba, perché vi permette di costruire i vostri nuker con una velocità bassa, insomma. Anche se hanno 170-180 di velocità, vi assicuro che anche a livelli alti riescono ad agganciarsi se tutti gli avversari sono stati addormentati precedentemente. Ottima. Ma non finisce qui, perché infatti ogni qualvolta un nemico perda un debuff sonno piazzato da questa destrezza, ha un 50% di probabilità di rimpiazzarlo con un debuff strezza da un turno. Si noti che perda è molto molto importante. Perché? Il debuff sonno può essere perso quando voi colpite un avversario, oppure quando subisce il danno di veleni, di bruciacapini, insomma, debuff che possono generare un danno materiale sul campione. In questo caso l'obiettivo verrà svegliato e perderà il debuff sonno. Se ancora non aveva preso turno, quindi è sveglio e lo prenderà normalmente. Ma lei, nel caso in cui avvenga questo, quindi nel caso in cui colpiate i vostri avversari per un qualsivoglio motivo, andrà ad ammettere la strizza, o almeno ha un'alta probabilità di andare a ammettere questa strizza, vale a dire 70%, e quindi è un'ulteriore possibilità che l'avversario perda il turno. Non è male questa combo, davvero. Con la terza skin, invece, piazza un debuff sonno su un alleato per un turno. Quindi molto molto strano il campione che addormenta gli alleati invece che gli avversari, o meglio, non solo gli avversari. Guarisce quell'alleato per il 50% dei suoi massimi HP e riempie per il 50% sul contatore di turno, ogni qualvolta il debuff sonno scade oppure viene rimosso. Quindi non perso, non perché gli avversari colpiscono quel campione, ma semplicemente perché scade, quindi avete perso il turno, oppure viene rimosso perché c'è un cleanser nel vostro team, ok? In quel caso otterrete un bel boost di cura e anche di contatore. Guarisce quell'alleato per il 100% e riempie completamente il suo contatore di turno nel caso in cui il debuff sonno venga perduto come conseguenza della provocazione di danni da parte di un nemico. Quindi se gli avversari vi fanno danno, meglio ancora, perché quell'alleato verrà curato al massimo e prenderà immediatamente turno. Questa nel PVE è forte, perché l'intelligenza artificiale degli avversari non è programmata per evitare di colpire quelli che sono addormentati, semplicemente attaccano chi attaccano, non stanno lì a guardare se c'è un debuff di controllo. Quindi molto molto buona questa, la può fare ogni due turni ed è parecchio. Correte il rischio che quell'alleato non faccia niente, perché se si sveglia ha perso il turno, però comunque verrà guarito e beccherà un bel po' di contatore. Questo gli permette insomma di saltare avanti rispetto agli altri e se invece viene colpito e svegliato da qualcun altro, nessun problema perché anzi verrà completamente guarito e beccherà di nuovo turno subito. Buona, buona davvero, buona buona davvero. E infine ha un più 18% di velocità in tutte le battaglie che è dignitoso, non è spaziale, però comunque è dignitosa come aura, potrebbe essere il vostro leader in molti contesti. Le statistiche sono buone, in particolare la velocità è molto alta, quindi questo campione potrebbe fare davvero davvero a caso vostro. È utile nella sua cripta, è utile in un sacco di contesti, potrebbe essere, come vi dicevo appunto, risolutiva nei confronti del Drago Eterno e anche in arena questa destrezza qui ha senso. Ha senso soprattutto perché è un campione che parte da una velocità di base molto molto alta, quindi sarà facile di conseguenza raggiungere velocità importanti che vi permettono insomma di farla lavorare insieme ad uno speeder importante come giudicatore, Lissandra e altra gente del genere. Quindi Coneglia davvero ottima, davvero 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 ottima per voi. Poi abbiamo il buon amico Tolf, questo campione è un punto di domanda grosso tanto quello di Saibel perché è stranissimo. Allora, non può fare colpi critici, quindi non ha nessun senso dargli tasso e danno perché non può fare colpi critici, è impensabile. Con la sua skill primaria attacca un nemico per due volte, ogni colpo guarisce questo campione per il 30% del danno inflitto, ci può stare. I moltiplicatori di questa skill sarebbero anche interessanti perché è un 21% per due, quindi il 42% dei suoi massimi HP è tanto ma non può essere critico, quindi non sarà tanto. Cioè è tanto numericamente ma non è paragonabile ad un colpo critico, non può esserlo. Quindi è già una skill un po' buttata secondo me. Con la seconda skill invece, beh questa è molto macchinosa raga, quindi in realtà non si hanno le idee ben chiare su come funzioni. Io voglio darvi la mia personalissima interpretazione. Potrei sbagliarmi, se avete qualche info un po' più specifica, per piacere scrivetemelo qua sotto nei commenti e rendiamolo noto alla comunità. Comunque attacca un nemico sempre quando non attacca i boss, quindi quando questo attacco non riguarda i boss, infligge danni puri e riduce al 50% gli HP dell'obiettivo. Allora danni puri sono gli stessi danni che fa la skill strizza cielo di Baron. Cosa vuol dire danni puri? Da quello che sappiamo si intende danni che non possono essere mitigati in nessun modo, quindi non solo non tengono conto della difesa avversaria, ma non tengono neanche conto delle maestrie, di eventuali set, insomma di qualsiasi cosa che possa andare a mitigare questo danno, bene? E riduce al 50% gli HP dell'obiettivo. Quindi questa parte di skill non ha un vero e proprio moltiplicatore di danno, lui semplicemente dimezza. Quindi la skill che cosa vi dice? Che Tolf ad un campione normale, non un boss, con questa skill dimezzerà gli HP di quel campione, senza possibilità che l'avversario possa mitigare questo danno in qualche maniera. La vita è 10.000, bam, 5.000, fine. In tutti gli altri contesti, quindi quando attaccherà un boss, infligge danni sulla base dei massimi HP di questo campione e piazza un debuff stordimento per un turno nel caso in cui l'obiettivo abbia già meno del 50% degli HP. Quindi contro i boss andrà ad infliggere danni basati sul suo moltiplicatore, che è 0.32, vale a dire il 32%. Se invece l'obiettivo era un target qualsiasi, non un boss, ma con vita al di sotto del 50%, allora lo va a stordire. Non si applicherà questa parte, perché questa parte si applica evidentemente soltanto quando il target è al di sopra del 50% degli HP e invece lo andrà a stordire. Ancora una volta infligge danni basati sui massimi HP di questo campione quando attacca i boss, significa che contro i boss, come dicevamo, fa un danno basato sul moltiplicatore di questa destrezza. Con la sua passiva invece riduce del 50% i valori di tutti i buff, scudo nemici all'inizio di ogni turno, dopodiché aumenta i massimi HP di questo campione della stessa quantità. Fino ad un massimo del 25% dei loro massimi HP. Non so se si intenda per target, comunque ha la possibilità di innalzarsi parecchio i massimi HP, quindi andare a compensare, se vogliamo, il danno mancato, perché non fa critici, con un moltiplicatore ancora più grosso. Non lo so, è da provare. Secondo me è un punto di domanda gigante questo campione qui, perché potrebbe fare tanto danno come potrebbe non farne e potrebbe fare un danno grande e inevitabile, visto che appunto il nostro avversario non potrà convertire questo colpo in nessun modo. Anche, che ne so, un eventuale anello, amuleto reazione, non si attiveranno mai, visto che lui può fare solo colpi normali, di fatto, essendo un campione del vuoto. Però, boh, non lo so, mi riservo di aspettare. È chiaro che se mi trovo a giocare contro avversari che hanno molti scudi, ha senso, altrimenti no. Non credo che sia un nemico di Krisk, un nemico di Brogni, di questa gente qua, io non penso che sia così. Boh, comunque non vi consiglio, ecco, di impegnarvi più di tanto per lui. Se fate la fusione di Saibel dovrete passare attraverso Tolf. Io l'ho trovato dalle schegge, nel bene e nel male. L'ho trovato dalle schegge, ma non credo che lo fonderò. Utilizzerò direttamente quello che ho trovato. Questo mi permette, insomma, di risparmiare un bel po' di energie, soprattutto nel per dieci della prossima settimana, a cui non voglio partecipare. Di conseguenza, bene, bene. Così per me. Però, non vi consiglierei di spenderci più di tante risorse. Ma forse è colpa mia che non ci vedo il diamante grezzo che è. Però non penso, non penso. E infine abbiamo Jurojin. Jurojin, campione molto bello esteticamente, devo dire. Mi piace molto. Con la sua skill primaria attacca un nemico con un 60% di andare a ridurre l'attacco. Questa è una cosa sempre super buona. Con la sua seconda skill invece piazza un buff scudo su questo campione per due turni, equivalente al 25% dei suoi massimi HP. Dopodiché attacca un nemico. Piazza un buff provocazione per un turno. Bene. Già il fatto che provochi, anche se ha target singolo, non è male. Se avete problemi contro il drago magmatico, soprattutto quando si trova in affinità rossa, nessun problema, sbattete dentro. Jurojin è del colore esatto e farà bene. Nel caso in cui i massimi HP dell'obiettivo sia equivalente o inferiore a quelli di questo campione, il debuff provocazione non potrà essere contrastato. Peccato perché non si attiverà quindi questa parte della skill contro il boss, visto che è matematicamente impossibile che Jurojin possa avere più HP di un boss. Però nulla vi vieta, naturalmente, di dargli la precisione necessaria perché si attivi anche in quella particolare fase. Con la sua terza skill, attacco nemico, ignorando il 25% della difesa dell'obiettivo. Questa skill ha un 0,34, quindi 34% di fare danni. Una skill che potenzialmente può uccidere sul colpo un qualsiasi avversario, anche bello tangoso. Quindi non è male. Come attaccante a target cingolo, sapete che i danni a target cingolo in arena non sono particolarmente utili. Questa skill potrebbe essere interessante per andare a liberarsi dei set parata, però no. In realtà, quindi, perché a target cingolo? Se fosse stato ad area, sarebbe stato rotto, sarebbe stato il campione più forte del gioco. Però comunque non è male, se non altro. Non mi ricordo se tra gli avversari della torre sventura del drago magmatico ci fosse qualcuno che va a mettersi in ammazzabile, tipo le cranio coro, non mi ricordo questo. Però fa danni, questa skill di sicuro fa molti molti danni, quindi anche contro il boss stesso potrebbe produrre un buon risultato. Con la passiva riceverà il 25% di danno in meno da parte degli attacchi avversari quando gli HP di questo campione scendono al di sotto del 50%. Ancora una volta, questa è utile contro il drago magmatico, perché farà molto danno all'obiettivo che lo ha provocato e quindi ricevere un bel po' di danno in meno perché si trova nei guai è tanta tanta roba. Quindi ottimo. Jurajin un altro campione, lo ritengo quasi uno specialista assoluto di quella fase. Se avete problemi con il drago magmatico, fase in cui di solito nessuno ne ha, però ci può stare, se non avete campioni abili a provocare, Jurajin potrebbe fare al caso vostro. Parlando invece dei rari, raga, non ci ho visto niente di utile onestamente. C'è un nuovo demoniaco che è molto molto bello esteticamente, meno a me piace. Mi piace anche in azione, ha delle belle animazioni, però non fa niente di utile. Va a ridurre la difesa, è vero, nella versione più grande, ma a questo punto prendetevi Magnar può fare un po' di danni andando a sottrarre eventualmente i buff avversari, può scambiare gli HP, sapete quanto questa cosa sia inutile in realtà, però anche perché non funziona contro i boss, quindi no. È bello, ha anche delle ottime statistiche, però no, niente di che. C'è poi il più strambo dei redivivi che io abbia mai visto, Cinerario, anche un nome piuttosto ridicolo onestamente, non fa niente di utile. Quindi questo è proprio pollaccio assurdo, gli hanno messo questo stemma che è un calice da martini con lo stecchino, non lo so, vabbè, comunque no, niente di che. Ci hanno messo poi un altro nano ridicolo ed è Guardaceri, l'ho persa in mezzo a tutto questo marasma di rari, Guardaceri, intanto è ridicola proprio come dice, mi dispiace per te figlia mia, ma fai ridere, anche lei non fa niente di interessante, quindi si può tranquillamente o sfruttare per la fusione oppure pollizzare, non vi servirà in nessun contesto. E infine c'è Boscaiolo, ditemi se questo non è uno dei tre troll dell'Hobbit. Per chi è fan di Tolkien, dite no, questo è uno dei tre troll dell'Hobbit. Sicuro, Maso, Berto, quello che volete, uno dei tre insomma, però è lui, ha la faccia proprio da ebete troll. Comunque vabbè, non fa niente di particolarmente utile, neanche lui può andare a ridurre l'attacco però nella sua versione più piccola, può andare a ridurre la difesa nella sua versione più grande, è vero, ma ha target singolo e comunque vi conviene utilizzare Maciste piuttosto che Ugo, ovviamente in cripta e aumentare un pochettino il danno, di sicuro non vi cambierà la vita, insomma, ecco quindi, no. I rari si possono tranquillamente pollizzare, il resto, vedete voi, in particolare con Elia è fortissima e sicuro vi aiuterà molto, Magnar può aiutarvi molto perché farà sicuro bei danni ed è un ottimo partner di chi brucia, che sia Akot, che sia Ixlimor, che sia Mordecai, quello che volete, va benissimo, quindi molto molto buono. Passiamo ora al Parincesto per la prossima settimana. Allora, ci avvicinano le vacanze, raga, quindi anche il canale alleggerisce un po' i contenuti visto che comunque bisogna anche dormire, sono un bradipo e ne ho bisogno. Allora, questo tipo di Parincesto con tre video settimanali sarà fino alla prima settimana di settembre compresa, però comunque porteremo dei contenuti davvero interessanti. Lunedì parleremo degli altri campioni, ce ne sono diversi ancora, di cui non abbiamo parlato, Eurogrim su tutti, che ho sperato davvero tanto di trovare da queste schegge viola, ma per adesso mi è andata male. Mercoledì invece parleremo di Diacono, l'ho già buildato in realtà e lo sto già utilizzando in cripta con grande soddisfazione, ma comunque potremo vederlo in tanti altri contesti. Mentre venerdì faremo una top 10 degli Slowboy, o comunque andremo ad analizzare tutti quei campioni veramente idonei per fare lo Slowboy in un team budget, come quello che abbiamo visto ieri. Detto questo, il video finisce qui, come al solito vi invito a lasciare i vostri commenti qua sotto con il vostro parere, con le vostre impressioni su questi campioni e anche sulla fusione in generale, lasciate un mi piace se avete credito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cosa super importante, e accendete la campanella e anche voi troverete ben presto Eurogrim dalle schegge, ve lo auguro tantissimo davvero, e comunque lunedì ne parleremo. E come dico sempre, siate furiosi, ma rimanete bradipi. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.